Continua a Bivogge e Pazzano la visita pastorale del Vescovo di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva e dopo l'incontro di ieri con le amministrazioni comunali dei due comuni, nel pomeriggio di oggi nella Chiesa Santuario alle ore 16, in occasione dell'inizio della settimana di preghiera per l'Unione dei Cristiani, ci sarà l'incontro ecumenico che vedrà pregare insieme i cattolici guidati da Monsignor Oliva, gli ortodossi del Sacro Monasterio di San Giovanni Teristice di Bivogge con padre Giustin e quelli del Sacro Monasterio di San Giovanni di Stilo con padre Nilo Vattopedino, inoltre padre Pino Imperitura della Chiesa Evangelica della Riconciliazione. Don Enzo, parroco di Bivogge e Pazzano, impegnato in questa settimana di visita del Vescovo, ci tiene a sottolineare che pregheranno insieme cattolici, ortodossi ed evangelisti in questa celebrazione della parola che si inserisce nella settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani. Questo è lo spirito che deve animare la settimana di preghiera, secondo il parroco, che è anche il responsabile del servizio di Dio Cesano, e rileva il peso dei conflitti in atto in alcune aree del mondo sul dialogo tra le confessioni. Don Enzo continua e dice, camminare insieme è più faticoso che nel passato, ma nella potenza della parola vogliamo chiedere il dono della pace. È significativo che mentre si stanno generando conflitti in tutto il mondo, le chiese celebrano questa settimana per reimparare ad amare Dio e il prossimo, l'essenziale del cristianesimo. A volte non possiamo fare molto di fronte alle conflittualità, ma possiamo essere generativi come comunità accendendo piccole luci, testimoniando lo splendore della bellezza di Gesù e divenendo costruttori di unità. Sull'incontro del pomeriggio interviene il Vescovo con una frase significativa e dice, di fronte ai problemi non dobbiamo dividerci. A conclusione dell'incontro in serata, il Vescovo incontrerà le associazioni del Paese.